L'Inter è l'Inter, l'Inter sta nelle top squadre del mondo, non è qua, chi viene qua sa che deve venire per vincere, per fare il massimo. Annelo a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200, prova Interchannel e poi scegli.